Mauro Gaido presidente del Red Clay Castellamonte oggi siamo in comune perché la società o meglio una delle sue squadre che hanno fatto molto bene al corso della stagione verrà premiata raccontaci un po' appunto quelle che sono stati queste emozioni forti che avete vissuto e avete regalato. Buongiorno a tutti in pratica il riconoscimento è legato all'impresa che hanno fatto i ragazzi del baseball under 15 di Castellamonte e dei Red Clay l'anno scorso nel 2020 poi ovvio che questa cerimonia è stata organizzata quest'anno per i problemi della pandemia che ci stanno ancora attanagliando tuttora comunque niente l'anno scorso la squadra è riuscita a fare una grande impresa arrivando terzi al campionato di categoria nazionale diciamo giocando veramente bene col cuore con la tecnica devo ringraziare tutti dai allenatori ai ragazzi ai genitori a tutta la società via che ci ha creduto e ha spinto questi ragazzi in questa grande vittoria ecco siamo arrivati terzi perdendo dai più forti quindi in semifinale abbiamo perso contro i Lions Netuno che sono una realtà a livello nazionale veramente forte e quindi perdere poi da chi ha vinto il campionato direi che è ancora un qualcosa in più ecco. La filosofia Red Clay però non è solo giovani ma anche avete creato una società una squadra nuova Signores che ha fatto quest'anno l'esordio e ha fatto complessivamente bene. Sì diciamo che noi eravamo partiti siamo partiti siamo una squadra giovane siamo partiti nel fine 2016 2017 con lo spirito di giocare e fare il gioco soprattutto per i giovani poi ovviamente i giovani crescono quindi di conseguenza quest'anno si è dovuto fare una squadra proprio senior per raccogliere i ragazzi che non possono più giocare nelle categorie i minori e diciamo che alla fine siamo arrivati quarti nel nostro girone quindi abbiamo fatto diverse buone partite ed è servito per diciamo iniziare questa nuova avventura quest'anno ci scriveremo di nuovo cioè per il 2022 ci scriveremo sicuramente al campionato di Serie C insieme alle categorie ovviamente Under 12 Under 15 e se riusciamo però lì bisogna vedere forse anche una squadra femminile di softball Under 13 ma quella non è ancora certa perché bisogna trovare qualche ragazza in più che ha voglia di giocare a softball. Un'altra cosa che ti chiedo è appunto 2022 già state gettando le basi secondo te quanto il baseball può crescere in canavese che è uno sport che è da tanti anni che si pratica però non è mai diciamo così esploso definitivamente. Sì diciamo che soprattutto negli ultimi due anni non avendo potuto diciamo andare nelle scuole a insegnare questo sport del batticore ai ragazzi soprattutto dell'elementare tutto è dura come anche in altri sport sento colleghi del calcio colleghi della pallavolo del basket e la pandemia sicuramente non ha aiutato però noi ci crediamo stiamo investendo soprattutto appunto nelle scuole quindi faremo delle giornate in estate o in primavera abbiamo diciamo in essere già dei progetti con le scuole del circondario per insegnare questo sport alternativo ai classici sport diciamo come possono essere il calcio o il basket o la pallavolo ecco e comunque posso dire che già i risultati che abbiamo diciamo le basi che abbiamo messo su in estate quest'estate del 2021 ci sono servite perché abbiamo già nove ragazzi under 12 nuovi iscritti che è un buon risultato per una piccola realtà come la nostra. Ultima cosa che ti chiedo è il fatto che Red Clay comunque ha sfornato e sta sfornando anche dei giovani interessanti addirittura che sono nel giro della nazionale. Sì questo è un dato di fatto abbiamo Edoardo Zingarelli che ormai nel circuito dell'under 18 in pianta stabile come lanciatore della nazionale abbiamo delle promesse che hanno già fatto diversi trial con la nazionale come Fabio Miragliotta altri ragazzi diciamo che sono nell'orbita anche della regionale quindi diciamo che siamo un buon aiuto per il bacino del baseball a livello nazionale sempre ribadendo alla nostra piccola realtà ecco Grazie 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 a tutti.